mesi che studio veramente tante tante storie di mafia approfondito un fenomeno che inconsciamente abbiamo abbiamo vissuto sulla nostra pelle l'isolamento vede io quello che dico oggi è che la storia di papà che evidente era una storia così tanto scomoda che ovviamente c'era tutta la volontà di tenerla di tenerla veramente insabbiata insomma farne perdere quasi memoria di questa di questa storia perché ovviamente i tassi che va a toccare sono sono molteplici non sono solo quelli mafiosi di conseguenza credo che anche questa forma di abbandono totale da parte delle istituzioni nei confronti di noi familiari sia stata sia stata fatta anche per questo motivo suo padre era un passo da entrare nel piano di protezione è stato ucciso credo un giorno prima tre giorni prima per le giorni lunedì mattina ci avrebbero dovuto portare in sicurezza sì ma sì ma